Achille. Achille non esiste più. È morto. È morto combattendo nella piana di Troia. Finché eri vivo ti onoravamo come un dio, ma anche ora che sei qui sento che la tua gloria domina sui defunti, perciò non devi rattristarti di essere morto, Achille. Non cercare di consolarmi. Preferirei essere un servo nella casa di un miserabile, ma ancora vivo sulla terra, piuttosto che regnare sui defunti. Tienti cara la vita, Ulisse, la vita è un bene inestimabile. È l'unico tesoro che si possiede.